Credo che siano giornate determinanti anche perché come ha detto il Presidente del Consiglio Meroni credo che i rapporti istituzionali siano dei rapporti fondamentali, le regioni hanno un ruolo l'abbiamo visto con la pandemia importante nel nostro territorio e credo che il dialogo continuo con l'organo di governo debba stemperare anche a volte dei momenti di tensione che non meritano perché bisogna lavorare tutti quanti insieme per raggiungere un obiettivo comune. Credo che questo sia il significato che si vuol dare oggi al primo festival delle regioni e che sia foriero per un'attività che sicuramente sarà un'attività propulsiva se si lavorerà bene tutti quanti insieme.